Devo fare un secondo più che in un campino come questo, un secondo più è un'eternità. Un secondo è uguale a tanto tempo. Vai! Quale raggi? Un contonello. Ah, c'era due ricchiari. Caffegati, vai! Eh, c'è un tricerenza, un tonnelli. Allora, facciamo il cognome, che si vince il sbaglio. Secondo voi è un cerchio, questo? No, non lo voglio. No, vai, è un nuovo? Vai! Anno scorso avete...